Quasi 3.700 firme per chiedere un incontro ai ministri competenti. Il Comitato Emergenza Lupo di Arezzo ha terminato la raccolta delle firme per la petizione rivolta a Francesco Lollo Brigita, ministro dell'Agricoltura, e Gilberto Fratin, ministro dell'Ambiente. Per la precisione sono 3.691 i residenti dell'Aretino che l'hanno sottoscritta. Dalla promulgazione delle norme che hanno istituito la difesa dei lupi inserendoli tra le specie particolarmente protette, scrive il Comitato, sono stati lasciati procreare indiscriminatamente fino a raggiungere gli oltre 3.500 esemplari, cifra che secondo il Comitato è sottostimata. Popolazione che secondo i firmatari della petizione non è stata gestita al meglio. Nella provincia di Arezzo, prosegue il Comitato, siamo passati negli ultimi anni dai frequenti avvistamenti ad una continua predazione nei confronti degli animali, non solo più quelli selvatici ma anche quelli domestici e da reddito. I lupi, sempre più confidenti e spinti dalla fame, stazionano intorno alle abitazioni anche nei centri abitati a qualsiasi ora del giorno e della notte. La nota si chiude sottolineando che la petizione ha avuto l'appoggio anche di Enalcaccia, unica associazione venatoria, sottolinea il Comitato che ci ha dato supporto.